Col Fenerbace giovedì sarà una partita molto impegnativa, sappiamo che il Fener è una squadra costruita per vincere l'Eurolega, ha veramente individualità molto molto talentuose, quindi dovremo essere capaci di mettere loro il bastone fra le ruote. Sicuramente la parte più importante giovedì sarà la parte difensiva, essere in grado di limitare al massimo le caratteristiche individuali delle avversarie, perché sicuramente insieme sono una grande squadra, sanno anche giocare bene insieme, però riuscire a limitare magari qualche individualità potrebbe essere la chiave per poter vincere la partita giovedì. Vi aspettiamo tutti quanti alle ore 20 al Pararomare per la partita di Eurolega contro il Fenerbace, vi aspettiamo!